La pista ciclabile che da Fiumicino porta a Parco Leonardo depredata dai ladri, travi di legno ma anche telecamere di sorveglianza vengono saccheggiate notte dopo notte con il risultato che ora quel tratto di pista è pericolosissima, come racconta questo cittadino che si è accorto di quanto sta accadendo. Praticamente tutti i giorni percorro questa pista ciclabile per poi prendere per Parco Leonardo e andare oltre. Allora io una mattina ho visto un airone qua sulle sponde, mi sono fermato per fotografarlo e mi sono accorto che mancava il sotto di là e di qua di questo ponte. Ho detto oddio e ho fatto le foto. Poi più avanti c'era l'ultima telecamera rimasta qui sul percorso e sono portato via prevedo. Poi dopo la settimana appresso mancavano altre assi qui sopra che come voi avete visto sono molto pericolose, poi viti sporgenti eccetera eccetera e allora ho deciso di mandare a voi la richiesta di un intervento appunto per poter superare questa cosa che è molto pericolosa. In effetti è molto pericolosa, noi siamo qui con lei e possiamo testimoniare che in alcuni punti è facile cadere di sotto, io immagino che qui passeggino anche le famiglie con i bambini quindi è pericoloso anche proprio transitare in questo momento. Esatto, poi qui specialmente sabato e domenica che è più frequentato vengono da Roma le famiglie eccetera eccetera, ci sono i bambini con le biciclette piccole, quel tratto lì che abbiamo visto è praticamente molto pericoloso perché se il bambino perde le piccole va a finire dentro al canale, qui invece gli adulti uguali, vanno le sotto uguali. Non è però questo l'unico tratto di pista dove i ladri si stanno dando un grande affare. Diciamo da Parkingoo alla stazione di Parco Leonardo, allora lì c'è il tratto di pista cieca che è praticamente impraticabile, lampioni di velti, esso o esso, poi tutta roba nuova perché hanno fatto tutto nuovo e poi è praticabile perché diciamo che la vegetazione ha ripreso il suo posto. E' vero che hanno rubato pure dei pannelli solari? Hanno rubato proprio i lampioni, quelli a led, certo, sì sì, sopra la lampada, il pano fortunatamente c'è rimasto.